Ciao, ho appena terminato il workshop qui a Chivasso. È stato molto bello, c'erano più di 40 persone. È stata veramente una bella esperienza, pieno di fatti sincronici, di incontri, di persone che vi seguivano da un po', persone nuove, degli incontri magici. E' quello che è emerso in questo bellissimo gruppo, è proprio una mancanza di capacità nel percepire, nel vedere la propria grandezza, il proprio valore, la propria luce. E quindi il messaggio della buonanotte che voglio lasciarti questa sera, proprio oggi, è proprio questo. Addormentati e risvegliati ogni giorno, ringraziando l'universo per quello che sei. e permettiti di vedere in ogni istante della tua vita quelle che sono le tue caratteristiche positive, le tue qualità, le tue capacità. Togli l'attenzione da quelle che sono quelle che ritieni le mancanze. Perché l'essere umano tende a paragonarsi con tutte le qualità migliori che esistono in tutti gli altri esseri. Ed è logico che in ognuna delle caratteristiche peculiari e più importanti di ogni persona, ti potrai valutare come inferiore. Perché ogni essere umano ha delle qualità e delle caratteristiche sue, nelle quali è unico, è meraviglioso, e non c'è la possibilità di essere equiparato a quell'essere umano per quelle qualità. Quindi quello che ti suggerisco è smettila di valutarti in base a queste caratteristiche. Non fare mai un paragone, ma permettiti di vedere quelle che sono proprio le tue particolarità più importanti, le tue qualità, i tuoi doni, i tuoi talenti. Quindi poni l'attenzione su ciò che ti viene bene fare, su quello che gli altri ti dicono che è proprio un tuo dono, una tua caratteristica. E permettiti di far crescere quelle tue qualità, di crescere proprio in quei talenti che hai. e comincia ogni giorno a vedere i tuoi miglioramenti e a chiederti in cosa oggi è stato meglio di ieri, come sono migliorato, in cosa sono cresciuto. E questo ti permette veramente di vedere ogni giorno quel passo che altrimenti passerebbe... che non ti prometteresti di notare. E che stai facendo. Quindi renditi onore, rendi onore al tuo cammino, alla tua crescita, a tutto quello che stai facendo e amati per quello che sei. Perché tu sei un essere divino che ancora devi scoprire di essere. Un abbraccio e serenissima notte.